Ridisegnare il moto rotatorio originale, espansivo e solare della Svastica, facendole così riacquisire dopo essere stata percepita dal nostro immaginario collettivo per oltre un secolo come simbolo di orrore e violenza, il suo significato primario. E' questo il progetto nato dalla volontà di Filippo de Sambuì che ha visto luce a Cortona con la mostra Svasti. In realtà è nato in modo molto semplice, ho comprato un libro e in questo libro c'era un disegno di una Svastica indiana del XVII secolo ed era bellissimo, il disegno era meraviglioso e da questo mi viene l'idea di fare un pavimento, immediatamente ridisegnai questa cosa e ho cominciato a pensare a un pavimento e così è nato. La rassegna espositiva curata da Liletta Fornasari comprende un'installazione pavimentale sulla piazza del Duomo di Cortona mentre il Museo Diocesano ospiterà il progetto preparatorio dell'opera. Siamo davvero contenti di avere all'interno del Museo Diocesano il progetto di questa splendida opera che poi si colloca anche in un luogo importante per Cortona perché la piazza del Duomo è anche la piazza che anticamente ospitava il foro quindi sulla quale si affacciavano anche gli edifici sacri della città prima etrusca e poi romana di Cortona. Quindi in qualche modo c'è un aggancio che ritorna così come ritorna il fatto che ci piace pensare all'arte contemporanea come un'arte che è sempre stata contemporanea. Cioè il Beato Angelico che sta all'interno del nostro museo o Luca Signorelli sono effettivamente pittori contemporanei, lo erano allora possono esserlo ancora oggi. Quindi è importante sicuramente che i nostri musei si aprano alla contemporaneità e nel caso specifico che un simbolo così antico, così importante, così primordiale come la svastica in qualche modo si purifichi da questa sua connotazione negativa ma finalmente torni un po' a riproporsi per quello che era come dice giustamente il nostro Filippo appunto come un simbolo di benessere, di benestare.